Palla ora e chiude Cardini, da queste 4-3 ci saranno altre due che si uniranno, ad Antonioli sicuramente e a chi dalla finish link uscirà. Tra Savoretto e Anzelini, ancora Tota davanti a lunga, incalza la Pallauro sulla Tommolato, Tommolato anche qui come prima, Tota controlla il distacco, ci si gioca il secondo posto per l'accesso alla finale gruppo 1, Tommolato tiene un giro, Tommolato con Pallauro che è dietro, meno attaccata. Perde anche il passo in uscita, non c'è dubbio.